Entriamo subito in casa della Pixel, ma ragazzi scopriamo se ci sono altri segnali da parte del Team Rocket A quanto pare è tutto quanto molto tranquillo Ho piazzato il PC che avevo tolto qualche giorno fa ragazzi direttamente qua sopra Giusto perché volevo scambiare il mio Requaza qua in squadra con il mio Dark Kray Che non vedo più neanche lui nel box, facciamo così Dark Kray Ok, meno male che lui ancora c'è ragazzi, un po' mi preoccupava perché lui è uno dei miei leggendari preferiti che ho in squadra con me Quindi non volevo assolutamente perderlo Ragazzi benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio della Pixelmon Oggi ragazzi cosa molto importante andiamo a catturare un nuovo Pokemon leggendario ed è Marshadow all'interno della savana E per mia fortuna ragazzi nella savana ho trovato anche come dire una palestra che ancora non avevamo sfidato Perché oltre che a catturare tutti quanti i Pokemon leggendari della Pixelmon Vi ricordo che uno dei nostri obiettivi è anche quello di sconfiggere tutte le palestre per raccogliere tutte quante le medaglie della Pixelmon Però cosa molto importante, vi ricordate che nella famosa casa segreta dello YouTuber che a questo punto abbiamo scoperto che in realtà Probabilmente non è di un YouTuber segreto ma è una casa di appoggio del Team Rocket Quindi noi abbiamo rubato con Kenda nello scorso episodio delle Master Ball che in realtà appartenevano al Team Rocket Io una comunque me la rubo ragazzi perché comunque il Team Rocket si è portato via ben 6 Pokemon leggendari E questa cosa qui non va bene In più ragazzi prima di andare nella savana che tanto vi ho detto Guardate qua ho trovato un ricorda mosse perché poi mi sono ricordato dopo aver fatto l'episodio Che se io avessi tolto poi il Photon Geyser direttamente al nostro amico Lunala Lui non si sarebbe potuto più mega evolvere, sì ultra evolvere diciamo in ultra necrozma e utilizzare la mossa Z Quindi io l'ho fatto imparare al posto di Mungus Beam che comunque era sì un attacco abbastanza forte Ma comunque tolgono lo stesso, entrambi lo stesso danno Però è molto importante avere comunque quell'attacco sul necrozma perché comunque appunto ce lo farà mega evolvere E trasformare in ultra necrozma tutto quanto splendente Comunque non pensiamoci e vogliamoci sopra perché in realtà questa savana ragazzi appunto è molto importante E qua già noi abbiamo la nostra palestra di tipo roccia da dover sfidare Che era esattamente dritto a me ragazzi mi lo ricordavo perfettamente Siamo più o meno a un 10.000 blocchi di stanza da casa Ho scelto appunto questa zona perché mi piace tanto esplorare nella pixamo Quindi quando girovago, si può dire girovago Comunque quando faccio i miei giri in giro appunto per questo mondo Trovo delle palestre in bio in molto molto carine Ho pensato potrei sconfiggere la palestra di tipo roccia del boss Con tutti quanti i suoi vari amici sfidanti qua sotto Che ho già sfidato, ho già sconfitto Per poi magari vincere questa medaglia nell'attesa che Marshadow spawni all'interno della savana Perché si ragazzi, Marshadow spawna anche nella savana oltre che nella Roofed Forest Comunque è una palestra di tipo roccia Quindi io secondo me i miei pokemon vanno abbastanza bene per questa palestra Abbiamo Palkia che supera il leggendario però ragazzi Palkia è quello con il livello più basso E ha 75, gli altri sono 86, 90, 84, 100, 100 Comunque credo che vadano molto molto bene come attacchi Allora partiamo Ragazzi subito così aggressivi in questo video Perché voglio fare tante battaglie e in più voglio che voi lasciate tanti mi piace Perché so che le battaglie vi piacciono veramente tanto Quindi partiamo subito appunto in questa nuova sfida Aerodactyl al 100 contro il ground all'86 Allora partiamo di Fire Blast e ci mette in campo Lunatone Ok non l'abbiamo bruciato E lui non ci ha fatto assolutamente nulla Andiamo di Hammer Arm per favore Ok l'abbiamo tolto metà vita Per me ragazzi è appunto molto importante sconfiggere questa palestra Perché è una di quelle che ancora se non sbaglio non ho mai sconfitto Neanche mai sfidato Quindi a questo punto se magari questo Lunatone ci potesse abbandonare ci farebbe anche un favore Però ci ha fatto fare il Groudon È al 100 eh Però comunque ragazzi cosa facciamo? Mettiamo in campo Palkia Che magari potrebbe fare magari un attacco tipo acqua e farlo fuori Vediamo Ok l'abbiamo fatto fuori E lui ha fatto un sacco di esperienza ragazzi Ottimo Molto molto importante Cabotops al 100 ragazzi Qua Qua usiamo Acquatail Però lui ce lo fa fuori sicuramente Allora Cabotops Che tipo di Pokémon è Cabotops? Sicuramente è tipo terra anche lui Quindi Cabotops Quindi cerchiamolo assieme Sapete che cerchiamo sempre i Pokémon Roccia Acqua Quindi mettere Charizard è assolutamente inutile Soffre Erba Eletro Lotta E terra Allora Qua dovrei avere qualcosa di interessante No Però Sludge Bomb Che potrebbe avvelenarci il nostro Bastiodon Soffre lotta terra e acqua ragazzi Beh fuoco potrebbe fargli del danno normale Quindi potremmo bruciarlo magari con lanciafiamme Quanta vita è? Quanta? Scusa Quanta? Ma no Ma è troppo ragazzi Ma dai Ma stiamo scherzando Magari con un altro lanciafiamme potrebbe bruciarsi almeno No Però Ha messato un attacco Ancora? Bravissimo Cab tops al 100 Buongiorno Ben ritrovato Possiamo bruciarlo Però ci ha fatto fuori Il nostro Eternatus Allora Necrozma Prende un po' di danno Non so da cosa si è dato Ultra Burst E andiamo di Photon Geyser Ragazzi Mega Ultra evolviamo il nostro Necrozma Facciamo diventare bello davastante Bello potente E facciamo Un attacco tipo Psico Che però ragazzi Lui è resistente Non è stata una mossa Ok Scusatemi Ragazzi Il Photon Geyser è veramente un attacco fortissimo Però lui ci fa un sacco di danno Vabbè Andiamo ancora di Photon Geyser Raidon Ci ha fatto fuori completamente Il Necrozma Abbiamo due Pokémon Con noi Uno leggendario E uno non Dark Void Può addormentare il Pokémon Molto molto bene ragazzi Dark Void è veramente un attacco Che ti risolve proprio le partite Ti risolve proprio le battaglie Allora Aerodactyl Dai ti prego Dark Void Urca ragazzi Mi sa Che siamo un Pokémon Contro uno Il mio Charizard Ah preso Quanto Oh Troppo danno Ma siamo matti Vabbè Allora ragazzi Aerodactyl Aerodactyl Però secondo me Potrebbe soffrire Mega chicche Dannazione Vabbè Era super efficace Con me ragazzi Purtroppo Questa palestra qua Comunque è stata Veramente molto Tossica E bella Che devastante Ragazzi È stata È stata È stata proprio Una battaglia Molto Molto Tosta Almeno abbiamo scoperto Quanto è potente L'ultimo livello Del boss Della palestra Appunto Di tipo Roccia E aveva dei Pokémon Veramente tanto Tantossici Allora Torno un attimino a casa Ragazzi Perché almeno Posso curarmi I miei Pokémon Che è molto Molto importante E poi Tecnicamente Possiamo magari Aspettare Che ci sponi Un bel Marsciado All'interno Della savana Però ragazzi Questi qua Erano i miei Pokémon Legendari Più forti Peccato Forse avrei potuto Cambiare il palca Con qualche altro Pokémon Un po' più comodo Perché il palca È stato veramente Inutile Sono appena morto Uh Uh Ho sponato Ecco In fondo Senza neanche Doverlo cercare Il nostro amico Marsciado Ragazzi Che bello Ci ho messo Un po' A sponare Un paio di giorni E notti Della Pixelmon Però Eccolo qua Ciao Starly Buongiorno Un bel Marsciado 70 ragazzi Che spettacolo Buongiorno Buongiorno Signor Marsciado Buonasera Buona Eh sì Ti pareva che Non si paghava la sfida Allora Siamo per favore Marsciado Ho da fare Ok Perfettissimo Marsciado Ragazzi È un po' Come un leggendario Bellissimo Mi è sempre piaciuto Per esempio Usarlo Nelle mie battaglie Di Pokémon Lucky Block Però Lui è noto Spettro Soff È folletto Psico Spettro Volante Bene Allora Buio però È normale Ok Quindi se io lo addormentassi Potrebbe essere Un'ottima mossa Potrebbe essere Un'ottima tecnica Marsciado Puoi addormentarti Perché il mio Dark Void Non fa nulla Ok Buongiorno Allora Quante Ultra Ball Ho con me Manco ci ho fatto caso Ne ho solo 48 Mi sono dimenticato Di preparare All'inizio video Ragazzi Che ho sbadato Allora Secondo giro Ok Allora Quindi noi abbiamo Un bel Marsciado Una bella battaglia Di Marsciado Contro dei Mark In questo modo Teniamolo qua Così possiamo vedere Anche la Ultra Ball Che gira Peccato per le foglie Che pieno zeppo Però ragazzi Marsciado È un bel Pokémon Legendore Che mi piace Veramente tanto E ogni volta Che trovo Nei Lack Block Di Pokémon Sempre utilizzavo Perché mi piace Proprio la sua forma Piccolina Quanto molto tenda Mi piace un sacco Il Marsciado Allora Abbiamo con me Una Master Ball Comunque Quindi posso utilizzare Anche lei Nel caso Però ricordiamoci Che Dream Eater Continua a abbassare La vita del Marsciado Quindi qua Stiamo molto attenti A furia addormentarlo Utilizziamo un altro Dark Void Che ovviamente Ha failato Quindi Riutilizziamo Per l'ennesima volta Sta dormendo Il nostro campione Allora controlliamo La nostra Ultra Ball Uno Due A secondo giro Se è andato E si è già anche Risvegliato il campione Oh E damo Eh su Forza Qua andiamo a catturare Un bel Marsciado Quasi siamo già La stessa Ultra Ball Non va bene Allora Un giro Due giri Ancora due giri Allora basta 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 Dark Clay Basta Dark Clay Mettiamo in campo Pancchia Allora È addormentato ragazzi Ricordiamoci questa cosa Potrebbe essere molto comodo Per noi poterlo ricatturare No ricatturare No Catturare una volta sola Una Ultra Ball Quindi comunque È molto più catturare Rispetto a prima Ma non vuole farsi catturare A quanto pare Andiamo ancora di Ultra Ball Tanto qua abbiamo anche Un sacco di Ultra Ball Ignoranti da poter utilizzare Sapete che ogni tanto Per esempio Abbiamo catturato uno Zapdos Con una Poké Ball Vi ricordo Quindi qua Noi possiamo esagerare Con una Timer Ball Così di ignoranza Vediamo Uno Due Tre All'ultimo All'ultimo di Timer Ball Noi ci ripriamo di Timer Ball Ragazzi Ci riproviamo Uno Due No va bene basta Basta Timer Ball Andiamo di 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 Repeat Ball Così ci provo di Repeat Ball Che sembra una Poké Ball Vediamo Uno No Uno Va bene Uno Va bene Riproviamo un'altra volta Per l'ultima volta Vai andiamo andiamo Uno Ma è neanche caduta la Repeat Ball Va bene che è scarsa Però Dannazione Cosa facciamo Safari Ball La Safari Ball ragazzi Qua si utilizza la Safari Ball Uno Due Tre No Dopodomani Allora facciamo un altro tiro di Safari Ball Giusto per Sport Nazionale Vediamo Uno Poi No niente Va bene niente Safari Ball Va bene A Marciato non mi piacciono le Safari Ball Allora Vado di La Safari Ball Cos'è la GS Ball ragazzi Non l'ho mai vista No questa qua è neanche caduta Neanche caduta la La Safari Ball Vabbè riproviamoci Riproviamoci ancora Allora Uno Poi abbiamo Poi c'è anche un secondo giro se vuoi Poi un terzo magari anche un quarto se vuoi Marciato Riproviamoci Uno Due No al terzo neanche A vera la La Safari Ball non gli piace neanche Però sono molto belle ragazzi Sarebbe bello avere un leggendario dentro una La Safari Ball Dannazione Riproviamoci Uno Due Tre Uuuuh All'ultimo La La Safari Ball ragazzi La rivoluzione E lei Uno Due E poi abbiamo il terzo Abbiamo anche il quarto No ragazzi Però il terzo rimane Io ci riprovo Me la sento tantissimo ragazzi Niente Master Ball Uno Due No al secondo Quante ne abbiamo ancora Non lo so Non lo so ragazzi Non lo so quante ne abbiamo Però Uno Due No al secondo giro Voglio prendere la La Safari Ball Ti prego Ti prego Marciato Almeno un Pokémon leggendario Lo voglio in una Ball così Uno Due No al secondo giro Al secondo giro ragazzi Dannazione Dai ti prego Ti prego Marciato Ti prego Fatti catturare Dannazione Non fare con lo ostico Problematico Dai Su Forza Allora Riproviamoci ancora Andiamo qua Uno Due Ragazzi ma perché così fa stesso Comunque sto Marciato qua Non ha degli attacchi così tanto P Per ora quanto ho notato Eh Però Boh Ragazzi Noi ci proviamo a prendere Anche perché comunque Nella casa ne abbiamo di attacchi Da poter mettere Da poter migliorare Quindi in qualche modo Possiamo sempre renderlo un po' come Leggendario Opin Qualunque caso Comunque Uno No Un giro Niente Niente La Safari Ball Non gli piacciono ragazzi Che ci possiamo fare Siamo qua un'ora e mezza Non lo so Io ci riprovo comunque Di cosa Di Premier Ball Ignoranza di Premier Ball Ragazzi Andiamo Uno Poi Poi c'è un secondo giro Marciato C'è un secondo giro da fare Nel caso se hai voglia Però Solo se hai voglia Uno No Nel Premier Ball Proprio li fanno schifo Le Luxe di Ball Un po' ci potevano stare Nel Premier Ball Neanche proprio le disdegna Proprio allegramente Però ho fatto un secondo giro Vabbè Cosa andiamo ancora Di Ultra Ball Io ci provo Ne ho 39 Non è che ne abbia così tante Poi c'è la Master Ball Da poter utilizzare Uno Due Tre No Il terzo giro Il terzo giro Il terzo giro Il terzo giro Campione Entriamo per favore No Questo qua neanche è scesa Ma non posso stare qua Un'ora e mezza Marciato Uno Due Ragazzi qua Io ci vorrei provare A catturarlo per voi Solo che il campione Non vuole entrare Dentro la Ultra Ball Qua noi non è che passiamo St'anora e mezza Per davvero eh Marciato Secondo me il mio timore È che lui finisca le mosse Tra un po' È un po' il mio timore Quello eh È un po' il mio timore Non lo so ragazzi Veramente a quanto pare È incatturabile Questo campione A sto punto Vado di Master Ball Direttamente E via ragazzi Perché appunto Il mio timore Che poi si autocolpisca Si faccia del male E comunque questa Master Ball Qui l'abbiamo rubata direttamente Abbiamo portato a casa Un bellissimo Marciato Che andiamo subito a vedere Perché sono molto curioso Di scoprire Di analizzare Insieme a voi ragazzi Voglio proprio vedere Questo bellissimo Marciato Vediamo un attimino Come è fatto Che mosse ha La statura E tutte queste cose qua Particolari Scriviamo direttamente qua Marciato Allora Andiamo qua Lo mettiamo un attimino Al posto Del Necrozman Di chi abbiamo messo Non di Necrozman Beh non mi ricordo Comunque dimensione Molto molto carino Mi piace veramente tanto E abbiamo Vediamo un attimino Statistiche Grandezza ordinaria Fighting Ghost All'attacco basso A difesa alta Ok Ci può stare Ci può stare ragazzi Poi scopriremo assieme Anche le mosse da dare Tutto quanto Anzi Consigliatemi Questa nei commenti Delle mosse carine Da poter dare A questo Marciato Noi ragazzi C'è un'impressione Mi raccomando Iscriviti E attivate la campanella Di nostre quanti notifiche Che è molto importante Scegliete uno Del video qua davanti E ragazzi Abbiamo catturato Un altro Pokémon leggendario Ci avviciniamo Al completare il Pokédex Con tutti quanti I Pokémon leggendari Della Pixelmon Mi raccomando ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Da Marco è tutto Iscrivetevi Attivate la campanella E nascete uno Del video qua davanti Ciao ciao Tutti i giorni Escono due video al giorno Eh